Quest'anno, Sanremo 2023, ogni puntata ce n'è una. Si parla adesso, ragazzi, di una clamorosa rite che sarebbe scoppiata dietro le quinte dell'Ariston durante proprio la terza serata di ieri sera. A lanciare questa bomba è l'influencer Dejanira Marzano, esperta proprio di gossip sul mondo dello spettacolo e anche il cantautore Luca Vismara. Sulla dinamica, ragazzi, si sa poco. La rite però avrebbe coinvolto due artisti di cui sono state rivelate le loro identità, Anna Oxa e Madame. Si parla di una rite furiosa tra loro due, infatti, scrive l'influencer, ci hanno appena detto che due big hanno litigato dietro le quinte e sono addirittura volati bicchieri d'acqua addosso a qualcuno, si legge in questi screenshot che adesso vi mostro. Eccoli qui. Qualche talpa che era presente proprio dietro le quinte ha mandato certi video e certe rivelazioni proprio all'influencer che poi ha pubblicato tutto direttamente sul suo profilo Instagram. Dall'altra parte, però, ragazzi, c'è la smentita di Anna Oxa che attraverso il suo staff ha smentito la versione trapelata sui social. Infatti, scrive così, non distraetevi, dice Anna, per il televoto ennesimo tentativo di diffamazione da parte di alcune redazioni nei confronti proprio della signora Oxa, presenti le forze dell'ordine che sono anche loro senza parole. E tu che cosa ne pensi? Scrivono nei commenti, lascia il mio like se ti va e iscriviti al mio canale. Ciao e alla prossima!